Per 240 anni, dal 1563 fino al 1803, il Palazzo dell'Archiginnasio fu la sede dello studio, voluto da Papa Pio IV per riaffermare il prestigio dell'Ateneo Bolognese, oscurato dalla nascita di nuove università in Italia e in Europa. Il progetto delle nuove scuole o, con termine classico, dell'Archiginnasio fu affidato ad Antonio Morandi, meglio conosciuto come Terribilia. Terminata in tempo di record, dopo poco più di un anno, la scenografica costruzione dal corpo porticato, lungo 139 metri, concentrava in un unico edificio le facoltà giuridiche, scientifiche e umanistiche sparse fino a quel momento in diversi spazi della città. Oggi, all'interno, si dispiega il maggior complesso araldico murale esistente. Più di 6.000 stemmi dipinti o scolpiti, appartenuti a rettori, a priori o a studenti, si susseguono nelle sale, lungo i corridoi, per gli scaloni e nel cortile quadrato, a doppio ordine di logge. Da qui si accede alla Cappella di Santa Maria dei Bulgari, custode dei frammenti di un ciclo affrescato tardo-cinquecentesco con Storie della vita della Vergine, del bolognese Bartolomeo Cesi e, sull'altare maggiore, della coeva pala dell'Annunciazione, del fiammingo Denis Calvert. L'Archiginnasio ospita ora la biblioteca comunale, ricca di oltre 600.000 volumi e 12.000 manoscritti, senza contare i carteggi, le carte geografiche e le stampe. Vi si trova pure lo spettacolare Teatro Anatomico, del 1637, destinato alle dissezioni di anatomia umana per gli studenti in medicina. È una grande aula in legno d'abete, opera magistrale di un allievo dei Carracci, Antonio Paolucci, detto il Levanti. Con un gusto tutto barocco per la decorazione, egli fece correre intorno agli spalti due ordini di statue raffiguranti, nel registro inferiore, 12 tra i più eminenti medici, da Ippocrate e Galeno fino a Marcello Malpighi, e in quello superiore, 20 busti dei più famosi anatomisti dell'Università Bolognese. Dal centro del soffitto a Cassettoni, in cui trova luogo la rappresentazione simbolica delle costellazioni, domina la figura di Apollo, nome tutelare della medicina. L'immagine più emblematica del teatro è però costituita dalla coppia degli spellati o scorticati, due statue anatomiche di sesso maschile in legno di tiglio che, a modi cariatidi, sostengono il baldacchino della cattedra, sul quale troneggia una figura femminile, l'allegoria dell'anatomia, seduta in atto di ricevere da un putto a lato l'omaggio di un femore. Le due statue furono progettate dallo scultore bolognese Ercole Lelli e poi eseguite da Silvestro Giannotti nel 1734. Parzialmente distrutto dai bombardamenti del 1944, il teatro dell'archiginnasio è stato perfettamente ricostruito nell'immediato dopoguerra, utilizzando le sculture lignee originali recuperate intatte dalle rovine.